Signori amici ascoltatori, tanti auguri, buono 2014. Presentiamo il più piccolo della serie, Alan 121 Midland, elaborato by Scorpione. Sentiamolo. Attenzione canale 45, binario 4.5 Attenzione canale 4.5, sentite Rino Radio Scorpione in prove tecniche, che se la modula qua. Sentite, ascoltate Rino Radio Scorpione in prove tecniche, Midland, Alan 121, elaborato colto. Ascoltate sto piccolo modulatore calabro qua. Minchia, un giga di ramma sotto ci abbiamo messo a sta radiolina qua. Un giga di ramma sotto ci abbiamo messo. Signori, tanti auguri, buon inizio 2014. Rino Radio Scorpione te vi saluta qua. Grazie. Grazie. Grazie.